Oggi siamo qui a Castello Tesino, questa notte i Vigili del Fuoco volontari del distretto Tesino Val Sugana e insieme al Corpo Forestale sono stati fortemente impegnati per contrastare un grande incendio che si è sviluppato qui nella zona di Celado. Più di 100 Vigili del Fuoco volontari sono intervenuti durante tutta la notte per contrastare le fiamme insieme appunto in collaborazione col Corpo Forestale. Questa mattina ci sono altri 30-35 Vigili del Fuoco impegnati sempre per il mantenimento e il controllo della zona per evitare che ripartano alcuni focolai. In rappresentanza del Presidente Fugatti e della Giunta sono venuta a ringraziare il Corpo di Vigili del Fuoco volontari del distretto Tesino e Vassa Val Sugana per il lavoro che hanno fatto. È stato un lavoro impegnativo, il loro impegno appunto è servito a domare le fiamme in poco tempo e a limitare soprattutto i danni. Quindi va a loro tutto il nostro ringraziamento per il grande lavoro svolto.